Salve a tutti da Arpapi, vi faccio vedere una cosa che non si vede facile facile in giro, la bottiglia di Ferrari da 6 litri. Questa bottiglia fatta appositamente in occasione del battesimo di Lorenzo e il suo papà, che sarebbe anche il proprietario del bar Panici a Ceriara di Priverno, ha deciso di fare una lampada di questa bottiglia, perché giustamente dice ma che ce fanno a casa con bottiglione così dentro una scatola? Facciamogli fare una lampada da Arpapi. Arpapi, eccolo lì, che prontamente ha fatto un buco dietro. Questo vetro è spesso oltre un centimetro, per farvi capire la pesantezza e la consistenza di questa lampada. Una realizzazione a sostegno dell'Italia Quattro Zampe Ollus, la voce di tanti pelosetti del mondo. Se anche voi avete bottiglie vuote con tappo originale che non vi servono più, segnalatecele. Oppure, se anche voi, proprio come questo nostro amico, volete fare della vostra bottiglia ricordo di un compleanno, di un battesimo, di un matrimonio, di tutto quello che vi pare, ne volete fare una lampada, basta che ce lo comunicate. Praticamente ci dovete sempre richiamare. Numero Whatsapp Italia Quattro Zampe Ollus. Sosteneteci, perché solo grazie a voi possiamo essere quello che siamo tutti i giorni, la voce di tanti pelosetti del mondo. Buona navigazione, Arpapi!